Una giacca splendida, realizzata da una franellina leggera, Avion, ed è una giacca facile da spezzare, quindi si può mettere un uncino sticotone in vari colori e l'abbinamento è sempre ricco ed importante. Il modello è un rubber classico due bottoni con le tasche a toppa, solo due perché quella sul torace, il taschino per l'appunto, è realizzata invece a barchetta come al solito. La fodera è uno splendido disegno cashmere tipico di quello che è la nostra collezione, con l'Avion che riprende un po' l'Avion del tessuto della giacca stessa e questo marrone del disegno cashmere che si abbina un po' alla cravatta scelta, ma anche, perché no, a un eventuale pantalone o un eventuale scarpa da abbinare con questa splendida giacca. Spero che il video e che la giacca vi siano piaciuti, ci vediamo da salto.